Faccio la terza registrazione video del giorno, sono registrato il 46 secondi del mio orroggio. Bene, questa è una camera precisamente in Italia, abbiamo usato una calchetta che indica una macchia via, si vede, mi sa che ho messo la macchia. Si vede? Caglie d'Italia, non so se si vede bene. Ora non ricordo se l'ho detto altre volte, durante l'Erasmus ho visitato El Medano quattro volte. Però ho saputo dell'esistenza di questa via dopo il ritorno in Italia. Ora ho una soddisfazione. Ma è anche un caromento. Il canto ha tante vie, magari in Italia, in varie parti della Spagna. e anche in altri stati. Comunque voglio parlare di un'altra cosa. Siamo in fase di una crescente. E' una meravigliosa cifra. Non c'è una torna piena, ma non c'è un po' ancora. Sarebbe una cifra abitata di queste canarie? Non ci ho detto altre volte, però. Siamo in fase di una crescente. Siamo in fase di una crescente.